Dopo il terremoto si va a caccia delle responsabilità, ma il più delle volte ci si dimentica che per decenni non si è svolta alcuna attività di prevenzione e sicurezza. Il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Barletta Andriatrani, Vincenzo Bacco, chiede maggiore attenzione sul recupero statico degli immobili pugliesi. Presidente, in pochi istanti la terra ha tremato e si sono sbrigolate intere città e molte, purtroppo, moltissime vite. La preoccupazione all'indomani dell'evento sismico è quella di pensare, nelle proprie città, come si può stare al sicuro? Questa è una bella domanda perché ogni città ha naturalmente una caratteristica di come è suddiviso il costruito o la maniera in cui è stata costruita. Io credo che bisogna ritornare un po' a quello che si dice ogni volta dopo un evento di questo tipo, cioè bisognerebbe tornare a avere coscienza di quelli che sono i limiti del proprio fabbricato. Più che i limiti conoscerlo. Conoscere significa vedere di che materiale, che tecnologia è stato realizzato, come si è evoluto nel tempo il fabbricato. Questo è uno degli aspetti, per esempio, molto più importanti. Un fabbricato innanzitutto è stato costruito secondo quelle che erano le regole, le tecnologie dell'epoca di costruzione. Noi abbiamo una grande necessità di mantenere in piedi edifici storici ed è giusto che sia così. Per cui bisogna conoscere un po' qual era la tecnologia dell'epoca. Poi c'è un altro problema fondamentale. Nel corso della sua vita il fabbricato è stato vissuto. Per cui sono stati eseguiti diversi lavori di cui non si ha magari conoscenza. Perché un fabbricato di cent'anni fa può aver avuto, per esempio, un'eliminazione di un muro portante o anche aver avuto l'introduzione di un altro muro che non è funzionale a quella che è la logica statica dell'edificio nel momento in cui è stato costruito. Non c'è bisogno però di tanti tanti soldi per mettere a posto i nostri centri storici in particolare o è una cifra sostenibile per la nostra comunità? Certamente l'impegno economico può anche essere molto molto grande. Però noi diciamo questo. Nei fabbricati di una certa età ogni tanto si mette in mano una ristrutturazione. E notiamo che queste ristrutturazioni vanno più verso forme di abbellimento che hanno anche di per sé dei costi anche molto alti. Se si dedicassero un po' di risorse economiche a invece una valutazione prima di tutto statica e poi a un consolidamento, un miglioramento cioè a quello che si può fare sul fabbricato sarebbe già molto, sarebbe già molta cosa insomma.